Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di partire per le vacanze e di lasciare un piccolo video di saluti domani io volevo anche un po' commentare quella che potrebbe essere la notizia più grande di tutto il secolo cioè forse anche maggiore di quello che è stato la pro di Ronaldo a Juventus perché è arrivato in un modo molto normale una squadra compra un giocatore di un'altra squadra, il più grande di quel momento e basta. Invece qui ha dello straordinario il discorso di Messi perché Messi fondamentalmente aveva rinnovato, aveva un'ipotesi di rinnovo meglio dire, con il Barcellona il Barcellona non è riuscito a decurtare gli stipendi o ridurre il monte in gaggi per rientrare nei parametri imposti nella Liga, quindi in Spagna e ha dovuto dire a Messi non possiamo pagarti, non possiamo tenere il tuo stipendio a portata e quindi Messi ok, vi saluto. Quindi è finita così, il giocatore più decisivo e più importante forse anche della storia del calcio ma della storia del Barcellona se ne va così, tipo a zero, così, senza un giro di campo così, cioè peggio di Marquisio, ma Marquisio meno male non era Messi però se noi guardiamo a Del Piero, alla bellezza del Dio Del Piero e la paragoniamo a quella di Messi con il valore che può essere, a livello di valore umano, valore affettivo del giocatore può essere correlato, diciamo che è un po' bruttino come è andata anche perché il giocatore adesso, come sapete, potrebbe firmare il PSG e il fratello del tizio del PSG ha praticamente confermato che manca l'ufficialità e Messi sarà un giocatore del PSG con un biennale più uno, opzioni per il terzo anno, a cifre esorbitanti si parla di 40 milioni netti l'anno, ma al di là delle cifre le cifre sapevo che saranno altissime visto che lo stesso Messi aveva concordato inizialmente con il Barcellona un'ipotesi di rinnovo a metà dell'ingaggio precedente, quindi si parlava di 25 milioni per tre anni quindi una cifra in realtà quella del PSG che andrà a essere ben più alta di quella proposta inizialmente dal Barcellona, non altissima come quella precedente con il Barcellona stesso, 34 anni, beccare 40 milioni l'anno insomma, non è che li buttiamo via, ecco, se mi dessero a me 40 milioni l'anno io sarei comunque più contento. La cosa è che questa cosa qua sta, lo shock sulla decisione di Messi, no, la decisione di Messi, perché poi un discorso di parametri che il Barcellona non ha potuto in nessun modo contenere, quindi non è colpa neanche di Messi da questo punto di vista, se non che magari Messi potrebbe dire, beh, rinuncio qualche milione però fondamentalmente l'avrà anche fatto, no? Perché se si parla da 50 milioni a metà dello stipendio il sacrificio era abbastanza alto in proporzione, ecco diciamo. Il discorso è che il PSG sta fagocitando tutto quanto. Il PSG si trova attualmente con Neymar con la pancia, però, con Neymar, Mbappé e potenzialmente Messi nel momento in cui era specializzato a meno di colpi di scena. Quindi il PSG, dopo aver comprato Bainaldum, aver comprato Hakimi, aver comprato Donnarumma, comprato a zero però a costi ben altissimi, Sergio Ramos, eccetera eccetera, andremo a prendere il giocatore più forte insieme a Ronaldo che c'è da noi del mondo e portarlo a casa. E la cosa è un po', ma questo è il PSG, dov'è che tirano fuori i soldi? Mi sono guardato un po' di articoli e un articolo in particolare di Calcio e Finanza sito che è bellissimo, bravissimo di tutti quanti, ovviamente Calcio e Finanza è uno dei migliori siti che io conosca sul calcio, visto dal punto di vista finanziario. E effettivamente c'è da dire una cosa, il PSG per quanto differisce ad esempio dallo Juventus, per poco, però quel poco pesa tanto e sono due fattori che poi vi dirò. Perché se guardiamo il PSG, il perché ha così tanta liquidità che permette quindi al PSG di fare, oltre il mercato mostre, quindi di sostenere anche degli pagamenti importanti, di sostenere degli ingaggi importanti nel periodo, nella stagione in corso, lo può fare perché ha una liquidità molto alta, pur essendo chiaramente l'ultima perdita di esercizio, è importantissima, si parla di 175 milioni di euro di perdita di rosso e quindi direi, beh, quello ha quello, quindi non può, invece no. In realtà, se guardiamo dal punto di vista del frappello finanziario, l'ultima stagione, quella che ha registrato questa perdita, il frappello finanziario è stato bloccato, quindi tutta la dinamica del pareggio di bilancio che il frappello finanziario si fa a portavoce non vale. Quindi cosa vuol dire? Che tutte le squadre che comunque hanno fatto un rosso, ma hanno comunque, a prescindere da questo rosso, un patrimonio netto molto solido, hanno comunque possibilità di spendere cash perché hanno una grande liquidità, eccetera, eccetera, di tanti altri fattori, ecco, quella perdita non conta più un cavolo dal punto di vista del frappello finanziario, non gliene frega niente questi catariotti e questi arabi qua e quindi possono spendere perché hanno una grandissima liquidità dovuta a due fattori. Il primo è il fattore che accomuna Juventus e PSG, giusto per fare un po' di comunanze. È il discorso che quindi del Qatar, il fondo che è proprietario del PSG, ha in qualche modo immesso liquidità, ha fatto un aumento di capitale molto importante lo scorso anno, cosa che è molto simile a quello che faremo noi. No, però noi la faremo dopo e andranno a copertura delle perdite di questi ultimi anni, che hanno veramente eroso in modo molto importante il patrimonio netto, visto che il capitale sociale in qualche modo è stato il patrimonio di insetto eroso molto dalle perdite che abbiamo fatto negli anni, dopo l'utile fatto qualche tempo fa, mi pare nel 2016, l'anno della plusvalenza di Pogba fondamentalmente. Dopo quell'anno, l'ultimo utile, poi andremo sempre più in perdita, con perdite molto importanti. Quindi il nostro patrimonio netto è un po' acceduto il passo. Ecco che questa ricapitalizzazione servirà alla Juventus a rimpolpare questo patrimonio netto e assorbire le ultime perdite della pandemia, quindi quelle delle scorse stagioni e quelle della stagione in corso che sicuramente andrà in perdita, mettiamocela via. Il PSG quindi ha questa cosa qua già fatta, che aveva già consolidato prima di adesso, prima di tutto questo casino, il discorso del patrimonio netto e aveva garantito altra liquidità che si va a sommare a una questione che comunque in Italia non esiste. In Italia, non c'è stato, a differenza della Francia, un piano di sostegno molto importante da parte del governo, fondamentalmente, da parte dello Stato italiano e quindi dello Stato francese. Ultimamente molte aziende francesi sono sostenute con dei prestiti molto importanti, tanto che ha portato dei prestiti al PSG, come azienda molto grossa, una bellezza di 90 milioni, 90 milioni spendibili e quindi chiaramente da questo punto di vista il fattore è molto importante, molto decisivo. Tenendo conto che a differenza nostra il PSG non ha debiti finanziari con le banche, non ha debiti finanziari con le banche, ma ha dei prestiti da parte degli stessi azionisti. Quindi sono prestiti molto più vantaggiosi rispetto ai prestiti che farebbe anche con un ente creditizio terzo, esterno, perché in realtà si interessano a fare più alti, ma ha un prestito interno, quindi un prestito che successe una cosa molto simile, che successe anche a Juventus qualche anno fa, con le liste azionisti, quindi sempre nel fondo di investimento del Qatar che ha fatto un prestito. Quindi l'unico debito finanziario che è, insomma, è interno in qualche modo e non debito in confronto di terzi. Questa cosa ha portato invece di avere una liquidità mostruosa che li consenterà adesso, in essenza di fare il valore finanziario, che va purtroppo, e di qui sbagliato, a concentrarsi solo sull'aspetto economico del parioggi bilancio e per questo motivo sta sostenendo queste cose qua. Il tutto, se sommiamo che l'UEFA sicuramente ha un valore importante, perché ha sospeso il valore finanziario che va per forza di cosa ad avvantaggiare i club che possono permettersi, come il PSG, di sostenere spese importanti, a prescindere da quelli che sono i fattori economici, e magicamente il PSG di queste squadre, ma potrei pensare anche alle inglesi, potrei pensare anche parzialmente alla Juventus, da qualche punto di vista, ma sicuramente il favore non è stato fatto per farlo allo Juventus. La piccola postilla che vi dico, che oggi dicevo sempre su Calcio e Finanza, è un bellissimo articolo su quello che vorrebbe essere un offer play finanziario, perché se è vero che il offer play finanziario è una strumento molto importante, io sono i primi a sostenerlo perché è giusto che ci sia un controllo, ma è sempre stato fatto con dei favori, degli sfavori, qualcuno ha subito l'impatto, qualcuno no, insomma non è mai stato molto meritocratico, molto democratico anche. Quello che si dovrebbe fare invece, e effettivamente uno può anche dire una cosa buona, però è la tempistica che mi dà sempre qualche problema di comprensione, passare da quello che è il pregio di bilancio, quindi parlare di un fattore economico legato ai risultati, alle perdite utili del discorso, quindi poi del triennio mi pare, c'è tutto un calcolo particolare su come viene calcolato il break even point, e sostituire questa cosa qua con un fair play che guarda il salary cap, che è una cosa che molti stavano dicendo, tanto che la Superlega stessa aveva promosso tra i suoi punti un'idea di salary cap, la cosa che fa sorridere è che questa salary cap quindi andrebbe a incentrarsi su quello che sono appunto i monti ingaggi dei giocatori, tramite un calcolo particolare che prende diverse voci, adesso non me lo sto neanche a ripetere, vi metto magari il link, salary cap che nel momento in cui venisse sforato, non venisse atteso, porterebbe a non tanto delle sanzioni, ma piuttosto a un decurtamento di quelli che sono i premi della Champions League, come concetto, se non sapessimo com'è l'UEFA, ci sta, il problema è che questa cosa qua se ne parla adesso, cioè l'idea viene adesso, nel momento in cui il PSG sta alzando il monti ingaggi, con Messi, l'ipotesi nel momento in cui Messi venisse confermato è che il PSG arriverebbe ad avere il monti ingaggi più alto di tutto il mondo e addirittura al monti ingaggi, guardavo quella grafica di Sky, prende il doppio del nostro monti ingaggi e già il nostro contiene Ronaldo per esempio, quindi questo per farvi un'idea. Quindi fa un po' ridere che l'UEFA parli di salary cap nel momento in cui il PSG sta facendo questa cosa qua. Qual è la mia idea? Che il PSG alla fine esce pulitissimo, perché da una parte ha il frappello finanziario alla vecchia maniera che non ha più valore in questo momento, meglio dire l'ultimo anno è stato bloccato, sospeso e quindi chiaramente porta a delle rigevolazioni a questo punto di vista. D'altra parte questo nuovo salary cap non verrà mentre dottor magari adesso, magari fra due anni, quindi intanto il PSG avrà fatto le sue belle scorribande in giro per l'Europa con questi giocatori super inflazionati, super pagati, avrà fatto quello che voleva, ha commessi, pagato fiori di milioni, con De Marcon Bappé, però magari fra due anni introducono questo salary cap, che comunque parliamoci chiaro, sarà non un tetto di ingaggi probabilmente massimo, cioè in valori assoluti, quanto piuttosto in proporzione rispetto ad altri valori, un po' come sta succedendo adesso in Liga, quindi vuol dire che poi nel momento in cui avesse problemi il PSG da via un giocatore a due, abbassa un po' il monte in gaggi, tra l'altro contando che Messi, Neymar, Sergio Ramos, sono due giocatori che, beh, Neymar no, ma che puntano ai 30 in su, quindi probabilmente Sergio Ramos fra due anni non sarà più al PSG, Messi non sarà più al PSG, quindi è chiaro che intanto sfrutta quello che ha, strapaga quello che ha, non ha nessun limite dal punto di vista dei parametri economico-finanziali che possa in qualche modo frenarli, però fra due anni ci mettono questa storia cap, perfetto, noi siamo a posto e gli altri buonanotte, quindi avete capito, questo è un po' il discorso, il caldo e il calcio, ma è sempre stato così, i potenti vincono sempre, perché riescono a trovare liquidità in qualsiasi modo, che sia appunto che siano i soci stessi, quindi un po' come succede con noi e anche con il PSG, che siano prestiti dei soci stessi, che siano prestiti garantiti dallo Stato, come succede in Francia, in un modo e nell'altro i grossi trovano sempre qualcosa su cui aggrapparsi, i più e i medio piccoli sicuramente no, ma anche tra i grandi che magari non hanno dei rapporti di amicizia e di favoritismo con certi enti, anche i grandi poi devono subire così come succede con il Barcellona, così come succede con la Juventus che non sta spendendo niente e devono avere dei freni importanti, quindi è un mondo che anche tra i grandi viaggia su binari paralleli, perché poi i tre grandi sono i grandissimi e i grandi normali ecco, quindi questo è un po' il discorso. Adesso vediamo un po' Messi come andrà, voglio vedere se poi il PSG finirà il calcio mercato lì, lo continuerà, venderà qualcuno comunque perché poi si trova con 50 campioni in avanti, non so che metterà in campo, sono molto curioso, però onestamente questo calcio mercato è veramente è un calcio mercato che è la riproduzione del mondo attuale, un po' come il primo mondo, il nostro mondo occidentale in cui spendiamo e spandiamo fiori di cose, poi c'è la povertà del terzo mondo che è proprio abissalmente inferiori alla nostra. Ecco, ci sentiamo un po' così anche nel calcio, però il calcio ha estremizzato molto questo concetto di ricchi e poveri, veramente in modo molto molto importante. Comunque vi lascio sotto un po' di link, di articoli molto interessanti di calcio finanza, così vedete anche i numeri e i parametri di cui vi ho parlato in modo molto generico perché complimenti anche per l'articolo e per tutto quanto. Forzilo come sempre e alla prossima, ciao!